Ultima nelle classifiche nazionali per la qualità della vita, prima nelle graduatorie per disoccupati iscritti nelle liste di collocamento. E' questa purtroppo la fotografia della provincia di Agrigento, un territorio lasciato alla mercè di tutti, una terra che ha sfornato e continua a sfornare ministri, presidenti di regione, assessori regionali, deputati regionali, nazionali ed europei, ma senza ottenere nulla in cambio. Perché chi viene eletto una volta preso l'aereo per andare a Roma o dopo avere superato Caltanissetta sull'autostrada che porta a Palermo si dimentica della sua terra, si dimentica della provincia di Agrigento. Mai come oggi con la presenza di un ministro, Angelino Alfano, che da anni è anche parlamentare nazionale e con la presenza di altri sette deputati nazionali e con sette deputati regionali e un europarlamentare, questa terra dovrebbe diventare il giardino d'Italia, accorciare quel gap con il resto delle province italiane in termini di infrastrutture, trasporti, occasioni di sviluppo e opportunità lavorative. Tra questi ci sono anche tre assessori regionali di cui è uno e anche vice presidente della regione, Michele Cimino. Eccoli i parlamentari che invece di pensare allo sviluppo di questa provincia si preoccupano di alimentare il loro bacino elettorale mantenendo in una condizione di sudditanza i loro elettori, i loro portaborse, i tirapiedi che per un contentino si vendono le proprie città, i propri territori, mettendo da parte quello che è l'interesse collettivo, le esigenze dei cittadini costretti alla fame, alla sete, con l'immondizia sparsa tra le vie delle città e con le bollette idriche salate e con i bollettini della Tarsu che necessitano di un mutuo per essere pagati. Eccoli i parlamentari responsabili del disastro in cui versa la provincia di Agrigento. Alla regione, Michele Cimino, deputato e vicepresidente della regione, fa parte del PDL Sicilia. Roberto Di Mauro, deputato e assessore al territorio ambiente, fa parte dell'MPA. Luigi Gentile, deputato e assessore ai lavori pubblici, trasporti e mobilità, fa parte del PDL. Giacomo Di Benedetto, deputato del PDD. Giovanni Panepinto, deputato del PDD e anche sindaco di Bivona. Vincenzo Marinello, deputato del PDD. Salvatore Cascio, deputato del partito dell'Udc. Al Parlamento nazionale, Angelino Alfano, PDL, ministro della giustizia. Giuseppe Marinello, PDL. Giuseppe Ruvolo, Udc. Calogero Mannino, Udc. Angelo Capodicasa, partito democratico. Salvatore Totò Cuffaro, senatore dell'Udc. Benedetto Adragna, senatore del partito democratico. Angela Maraventano, senatrice della Lega. Infine, l'europarlamentare Salvatore Iacolino del PDL. Guardiamoli bene in faccia a questi politici, perché tra non molto li vedremo sui facsimili elettorali, perché verranno a chiederci il voto, promettendo di fare della provincia di Agrigento una terra dorata. Promesse, promesse, promesse. Parole, parole, parole. Adesso si riempiono la bocca della parola federalismo, senza spiegare bene alla gente a cosa si andrà incontro con l'entrata in vigore del sistema federale, che allontanerà ancora di più l'Europa dalla provincia di Agrigento, relegandola a terra di confine più vicina all'Africa e degna di essere chiamata provincia da terzo mondo. Di chi sono le responsabilità ve lo abbiamo appena detto. Chi vuole bene a questa terra, chi ama questa provincia, ci segua, segua TV Alfa, per cambiare questa terra, per avere una vita migliore. Chi è oppresso, stanco di queste promesse fasulle e si vuole ribellare per non essere più sottomesso, imbrogliato dalle fantomatiche promesse e dai fatti che non arrivano mai, segua TV Alfa, faccia sentire la propria voce come atto di dissenso e di protesta. Grazie a tutti.